Mi sarebbe piaciuto parlare dell'operazione che stanno compiendo gli operatori, gli operatori di telefonia, non tutti al momento, un paio, possiamo anche fare i nomi, Wind3 ha aperto la strada, Team a ruota, vediamo adesso come si comporterà Vodafone e mi riferisco a quel meccanismo per cui le compagnie telefoniche hanno deciso di agganciare il, intanto spostiamo il telecomando, il prezzo, il canone dei loro servizi al tasso di inflazione. Faccio fatica a trattare questo argomento, faccio fatica perché naturalmente vivo una sorta di conflitto di interessi, sono un po' parte in causa, io come agente, come consulente, come commerciale che vende alle aziende i servizi della telefonia. È vero che al momento questo meccanismo di aumentare, di agganciare i canoni della telefonia fissa e mobile, dei servizi delle telecomunicazioni a tasso di inflazione riguarda, riguarda prevalentemente il mercato consumer, cioè o al momento riguarda il mercato della telefonia per privati. Su quello per le aziende che è, diciamo, il settore dove io mi muovo, non ho al momento nessuna indicazione rispetto a questa iniziativa. Però questo non mi esime dall'esprimere la mia opinione, dall'esprimere il mio parere, che è nettamente contrario a questa cosa. Perché io dico, ma perché vi dovete tirare la zappa sui piedi e siete usciti con sta roba qua? Abbiamo fatto non so quanti anni a essere insultati dai clienti, dagli utenti in generale, per via della questione della fatturazione a 28 giorni, che poi l'autorità per le comunicazioni ha riconosciuto essere un'operazione illegittima e vi hanno anche costretto a restituire i quattrini che avete preso alle aziende e ai privati, perché era un meccanismo che faceva sì che un cliente in un anno pagasse 13 canoni, 13 fatture, invece che 12. Avendo un anno 52 settimane, avendo spostato il ciclo di fatturazione, appunto, non più su base mensile, ma su base settimanale, veniva fuori ogni 4 settimane, ogni 28 giorni, veniva fuori questo tipo di cosa, di esborso. Ed è stato riconosciuto come proprio un escamotage, un po' un trucchetto, spiace dirlo, per incamerare maggiori guadagni. Lo stesso amministratore delegato di Vodafone aveva riconosciuto che c'era stata poca trasparenza, aveva fatto una sorta di mea culpa. Per non parlare poi, oltre alla fatturazione 28 giorni, dei servizi premium a sovrapprezzo, dove tutti, un po', tutti gli operatori maggiori, diciamo, quindi Vodafone, Wind, Tre, Team, eccetera, hanno avuto delle sanzioni, hanno ricevuto delle sanzioni, delle multe, dall'antitrust, dal garante, per queste pratiche che prevedevano l'attivazione di servizi, senza il consenso dell'interessato, no? Loghi, suonerie, eccetera. Tutte cose che è anche un po' noioso ritornarci sopra, vecchie e stravecchie. Adesso avete tirato fuori questa roba dell'inflazione, di agganciare i canoni, perché non aumentate i prezzi? Cioè, allora che cosa vuol dire continuare a buttare fuori offerte low cost, se poi dovete rimediare, compensare queste offerte low cost con questo meccanismo? E poi lasciamo da parte anche un momento il modo in cui lo state proponendo o lo stanno proponendo, no? Vedi la faccenda del doppio SMS di Wind, Tre, che se non sbaglio è già stata sanzionata per qualche milione di euro, ti mandano un SMS dove ti avvisa che c'è questa variazione, poi te ne manda un altro, dove ti dice no, questa variazione non c'è più, ci scusiamo, ti aumentiamo i giga, però forse con quel secondo messaggio scattava poi l'operazione inflazione, canoni, eccetera. Insomma, questo modo di trattare i clienti, gli utenti, un po' come delle, è brutto dire, un po' come delle vacche da mungere, no? Parco buoi, lì abbiamo bisogno di maggiori ricavi, inventiamoci sta roba. Ma allora avete bisogno di maggiori ricavi, aumentate i prezzi, abbiate il coraggio di aumentare i canoni, o abbiate il coraggio di non buttare fuori tariffe a 6,99€. E non mi riferisco a Iliad, perché per esempio in questo momento sul mercato si riescono a reperire offerte anche più vantaggiose di quelle di Iliad, perché appunto i brand low cost, sottostanti alle compagnie telefoniche tradizionali, mi riferisco a Homemobile, che è di Vodafone, a Kena, che è di Team, a Verymobile, che è di Wind. Questi tre operatori virtuali, che tanto virtuali non sono, hanno delle offerte che sono ancora più vantaggiose di quelle di Iliad. E allora che senso ha? Fate delle offerte così stracciate, così a basso costo, e poi avete bisogno di compensare con meccanismi come questo dell'inflazione, dove ogni anno il canone dei servizi che proponete dovrebbe aumentare di determinati punti percentuali. E mai scendere tra l'altro, e mai scendere. Quindi insomma è un argomento che mi è difficile da trattare, però non sono d'accordo solo dalla parte degli utenti che vedono come questa cosa, diciamo l'ennesima genialata, tra virgolette, per non aumentare i prezzi, perché sappiamo bene che se aumentate i prezzi siete costretti a svincolare i clienti dai contratti biennali, svincolarli, liberarli dai costi di disattivazione, e questi potrebbero cambiare operatore senza alcun problema. Mentre in questo modo, se il canone aumenta a seconda del tasso di inflazione, in questo modo il cliente non è svincolato, è vincolato e rimane lì, e rimane lì. Però capite che è un brutto modo di trattare i clienti, e questa cosa io temo che vi si ritorcerà contro per l'ennesima volta, e aprirà la strada a maggiori successi, così come è avvenuto in passato, ma facciamo i nomi, come quando Eliad è arrivato qui, che si è presentato come l'operatore con determinate promesse, promesse di, non solo promesse di risparmio, promesse di trasparenza, promesse di rispetto, promesse che riguardano i prezzi che non aumenteranno mai, insomma tutta una serie di promesse, oh, è che loro hanno mantenuto il loro marketing, non vedeva l'ora di un'operazione come questa, dell'inflazione dei canoni, perché tant'è vero che si hanno già lanciato una campagna. Io temo che questa vostra iniziativa, cara la mia Wind Team, eccetera, non farà altro che favorire un'ulteriore migrazione di qualche milione di utenze verso l'operatore francese. Ahimè, se è questo che volete, che vi devo dire? Però ecco, ci tenevo a dire, visto che io sono una persona che li vende questi servizi alle aziende, spero di non vedere sui miei clienti questo tipo di trattamento, perché se no, non so, non sarei in grado di difendere le vostre posizioni, le posizioni dell'operatore che rappresento attualmente, perché vivrei anch'io questa cosa come una profonda ingiustizia. Detto questo, non mi voglio dilungare oltre sugli aspetti, tecnicismi, eccetera, sappiate che, insomma, cari clienti, cari amici che io sono con voi e sono contro l'inflazione e l'aumento dei canoni legati al meccanismo dell'inflazione. Al prossimo video, ciao!